Nuovo appuntamento con l'informazione su Telestense, ben ritrovati come sempre tante le notizie anche in questo appuntamento. Parleremo di una nuova candidatura al sindaco di Ferrara, salgono così a quattro i candidati per le amministrative del prossimo giugno, ma ci occuperemo anche dell'inaugurazione dell'anno accademico Unifè presso il polo didattico di Cona e poi del Ferrara Baskers Festival che torna anche quest'anno, c'è stata una conferenza in cui sono state anticipate diverse novità. Questo è l'altro dunque del nostro TV giornale, ma cominciamo subito parlando dell'inaugurazione del 633esimo anno accademico di Unifè tenutosi presso il polo didattico di Cona, dove in particolare sentiamo l'intervista che Dalia Bighinati ha realizzato alla rettrice Laura Ramacciotti. L'emozione di questa inaugurazione? L'inaugurazione dell'anno accademico è sempre una grande emozione perché come diceva anche il nostro prolusore oggi si tratta di un inizio, di un inizio che porta con sé curiosità, che porta incognite, che porta però anche l'entusiasmo e lo stimolo per migliorare e migliorarsi sempre. Sono tanti gli ambiti nei quali stiamo cercando di consolidare ma anche di far crescere il nostro ateneo dalla parte infrastrutturale che come dicevo è densa della nostra storia e che vuole proseguire la nostra storia nell'accogliere al meglio tutti i nostri docenti e i nostri studenti, il nostro personale tecnico amministrativo, ampliando spazi di didattica, amministrativi, di ricerca e di studio. Sono tanti gli investimenti che stiamo facendo anche nell'attività di ricerca con nuove risorse, attrezzature, tanti progetti di finanziamento che siamo riusciti ad attrarre anche in questo ultimo anno. La didattica è imprescindibile perché ricordo che il cuore pulsante del nostro ateneo sono gli studenti e restano gli studenti e quindi una didattica di qualità che cerchiamo di migliorare di anno in anno adeguandoci anche alle nuove metodologie didattiche che possono andare meglio incontro alle esigenze degli studenti. Abbiamo sentito tre parole tematiche importanti che le sottoponiamo, inclusione, gentilezza e fuoco. Lei cosa pensa di queste che sono parole e metafore insieme? Andrebbero messe in un mixer. Molta inclusione, molta gentilezza e molto fuoco nel senso di anima, entusiasmo, voglia di rimanere sempre vivi e accesi e attenti in quello che si fa, attenti in particolare nell'accogliere il prossimo e gli altri, ascoltarlo e cercare di valorizzare ciò che ci porta lo scambio con l'altro. Intanto sempre nelle stesse ore si è tenuta una conferenza in cui è stato presentata l'edizione 2024 del Ferrara Baskers Festival, tornerà anche quest'estate come sempre nella seconda metà di agosto, ma tutte le novità le vediamo nel servizio. Presentata la 37esima edizione del Ferrara Baskers Festival che si terrà dal 21 al 25 agosto con diverse novità, a partire dalla scelta del suggestivo Corso Ercole d'Este, noto ai più come la via più bella d'Europa, quale teatro di esibizioni degli artisti. Fino all'introduzione di un biglietto d'ingresso che darà accesso a centinaia di ore di spettacolo e ad una rassegna culturale che tutti i pomeriggi ospiterà talk, incontri e approfondimenti. All'incontro con i giornalisti in residenza municipale sono intervenuti l'assessore comunale alla cultura Marco Gulinelli, insieme agli organizzatori Rebecca Bottoni, presidente e direttore artistico del Ferrara Baskers Festival, e Stefano Bottoni, ideatore e fondatore della manifestazione. A 37 anni dalla sua nascita, il Ferrara Baskers Festival rinnova il format con l'obiettivo di continuare a preservare l'autenticità e la qualità che lo contraddistinguono e lo rendono un evento unico nel panorama internazionale. Dal 1988, infatti, è tappa imprescindibile per migliaia di musicisti che ogni giorno scelgono la strada come palco. Una strada bellissima che diventa il fil rouge e il manifesto di questa nuova edizione, prospettiva sul mondo dove persone e culture diverse si incontrano e dialogano, e lungo la quale sarà ancora più facile e naturale lo scambio tra l'artista e il suo pubblico, così come la condivisione di suoni, emozioni e divertimento. E adesso alla politica, parliamo di Italia Viva Ferrara che appoggia il quarto candidato, Daniele Botti. Tutto questo arriva a poche ore dall'annuncio, dunque, di un quarto candidato a sindaco per le amministrative 2024 di Ferrara con l'endorsement, appunto, di Italia Viva. Il partito di Renzi, che non si è ancora sbilanciato, appoggerà dunque Daniele Botti, giovane imprenditore ferrarese. Vediamo. Italia Viva ha sciolto le riserve, parliamo delle amministrative 2024, mancava all'appello il partito di Renzi, che cosa avete deciso e chi è il vostro candidato? Bene, sì, Italia Viva proprio stamane ha deciso di appoggiare convintamente Daniele Botti, che ha deciso anche lui di candidarsi come civico alla guida della città. Daniele Botti è una scelta condivisa anche, diciamo, con il nazionale. Parlerà domenica sul palco della Leopolda, proprio prima di Renzi. Italia Viva mancava un po' ancora all'appello? Non aveva ancora un candidato? No, ancora no. Però abbiamo visto in Daniele Botti, che nasce come forza civica, una risposta efficace ai nostri bisogni, a quello che chiediamo, a quello che i nostri elettori chiedono. E quindi abbiamo voluto sostenerlo senza riserve. Italia Viva Ferrara, non lo nascondo, era preparata anche a non correre, proprio perché non si riconosce negli attuali candidati. Quello che ci ha convinto di Daniele sono la sua provenienza e soprattutto i suoi propositi. Daniele parla di temi che sono cari ed Italia Viva. Quindi parla di rilancio economico, parla di famiglia, temi di cui noi abbiamo sempre trattato. Che poi sono un po' i temi di cui parlano un po' anche gli altri partiti. Ecco, sì. Gli altri partiti ne parlano su un aspetto leggermente diverso. Noi credo che Italia Viva si sia sempre caratterizzata per gli approfondimenti che ha saputo sempre portare agli argomenti. È chiaro che noi riteniamo, il nostro caro Di Bari, riteniamo che la nostra provincia abbia assolutamente bisogno di un rilancio economico ed industriale. E crediamo che, ovviamente, gli altri candidati non siano in grado di dare le stesse risposte. Per gli elettori di Italia Viva, magari un po' il rimpianto del terzo polo con azione. Sì, il terzo polo è stato un dispiacere vederlo naufragare. Però noi a Ferrara, sul locale, ci abbiamo sempre provato a portare avanti e a perseguire questo scopo. Andava assolutamente capitalizzato il successo che si era ottenuto alle politiche nazionali. Abbiamo voluto muoverci in questo senso. Con azione, purtroppo, non è stato possibile perché hanno fatto una scelta di campo molto chiara e ci stupisce perché va in una direzione molto estrema, addirittura appoggiando un candidato 5 Stelle. Ci chiediamo, effettivamente, se i loro elettori condividano questa scelta ma siamo sicuri che a Ferrara ci sia un bacino che chiede una forza riformista in campo e noi ci siamo per loro. Una città per le donne. È questo uno dei temi a cuore di Anna Zonari, candidata sindaca di Ferrara all'amministrativa del prossimo giugno, che abbiamo intervistato. Sentiamo. È stato presentato un manifesto per Anna Zonari come candidata sindaca di Ferrara, un manifesto delle donne che sostengono appunto questa candidatura. Da cosa nasce questo sostegno e cosa vogliamo prospettare per Ferrara come città delle donne? Questo movimento di donne è nato in maniera spontanea una volta che mi sono fatta avanti appunto per portare avanti un programma civico con la lista La Comune di Ferrara. in maniera spontanea perché sono stata contattata da amiche conosciute durante gli anni della mia vita che hanno manifestato l'interesse e il desiderio di sostenermi. Quindi da lì una di queste donne si è fatta promotrice di questa campagna appunto a favore della mia candidatura. All'interno del programma elettorale a cui stiamo lavorando un punto è dedicato a Ferrara, città per le donne. Perché? Progettare una città per le donne significa progettare una città per tutte e per tutti di qualsiasi età, di qualsiasi provenienza culturale, di qualsiasi estrazione sociale, di qualsiasi concezione proprio che hanno della vita. Se ci pensiamo, progettare una città dal punto di vista femminile significa parlare praticamente di tutti i piani che interessano la nostra dimensione, a partire dall'urbanistica, quindi dei quartieri che siano sicuri, in cui le donne si possano sentire sicure quando camminano, ma significa anche facilitare la partecipazione delle donne a tutti gli ambiti della vita, a partire dalla politica dove le donne fanno fatica ad affermarsi, ma anche nel lavoro dove le donne sono in tutti i settori nevraldici della nostra società, ma sono meno retribuite, fanno più fatica ad arrivare agli ambiti più, alle sfere più epicali, diciamo, all'interno delle proprie organizzazioni. Significa essere più inclusive, pensare di più, diciamo, avendo a cuore anche tutti quelli che sono le fragilità delle nostre condizioni umane. Quindi significa mettere al centro delle politiche per la parità, delle politiche di genere, che siano appunto a favore delle donne, ma che siano a favore di tutte e di tutti. E sono dunque 107 le donne ferraresi che finora hanno sottoscritto il documento alla candidatura di Anna Zonari. Vediamo il servizio per i dettagli. Una sindaca donna non è solo una diversa vocale, è tutta un'altra storia, un vento nuovo, anche nel metodo, fatto di concretezza, dialogo, collaborazione, trasparenza, determinazione. Comincia così il documento con cui 107 elettrici ferraresi rendono note le motivazioni del loro sostegno ad Anna Zonari, candidata sindaca del Comune di Ferrara. Tra le ragioni indicate a chiare lettere dalle 107 elettrici, c'è la necessità di una figura femminile a dirigere l'amministrazione comunale, capace di includere e non escludere, convinta della necessità di attivare la partecipazione dei cittadini al governo della città e in grado di attivare forme di partecipazione reali, come quelle che ha sempre praticato. La città e chi la abita, al centro dell'azione amministrativa, potrebbe essere lo slogan di una candidata come Anna Zonari, che non condivide il potere di un uomo o di una donna solo o solo al comando, che crede nella cooperazione e nel lavoro di squadra, metodo a cui è improntato tutta la sua vita professionale e privata. Una sindaca competente, aggiunge il comunicato, che non arriva all'ultimo miglio a parlare di ambiente e di sostenibilità, né a difendere i beni comuni, ma sente la necessità di proteggere tutte le persone più fragili, di agire per il lavoro e per evitare che diventi in realtà la desertificazione sociale, economica e culturale della città, fenomeni contro cui si è sempre battuta. Una sindaca, in sostanza, secondo il documento delle 107 elettrici, per una Ferrara bella e umana, in dialogo con tutte e con tutti, per affrontare e sciogliere insieme i nodi del futuro. Cambiamo argomento con i Diplomatic Days, organizzati da Cipro in arrivo a Ferrara, decine di ambasciatori, console e portatori di interesse da tutto il mondo, tra giovedì e venerdì, per conoscere le opportunità economiche e commerciali presenti sul territorio. Uno o due giorni in cui incontreranno aziende che rappresentano un'eccellenza nei propri settori. Conosciamo allora alcune e sentiamo che cosa si attendono da questi Diplomatic Days. Una sfida molto importante anche per questo territorio, ospitare queste eccellenze a livello mondiale, direi perché ci sono presenti tutti i continenti. Ci piace la Toyota come pilastro anche le sfide, quindi questa è una cosa abbastanza sfidante per noi, ma soprattutto per il territorio che ci ospita. e comunque noi siamo sempre in continuo miglioramento, quindi anche uno scambio, diciamo, sia culturale che commerciale, uno scambio in termini di standard, uno scambio in termini di cultura, uno scambio in termini di flussi di lavoro e quindi è una cosa a quale tenevamo a partecipare e siamo stati insomma contenti di essere stati selezionati come azienda per partecipare a questo evento così importante. FRIEL è presente nel territorio del Toro Ferrarese da circa sette anni. Abbiamo realizzato un investimento importante nel settore agricolo, realizzando un impianto sericolo di circa 30 ettari, alimentato in maniera assolutamente autonoma in questo momento da fonti nostre. Non è un'azienda agricola, diciamo, tradizionale, quindi è abbastanza curiosa, molto carina, speriamo che susciti anche l'interesse dei partecipanti all'evento, assolutamente. Quindi li accoglieremo con affetto. Speriamo di internazionalizzarci. Siamo come start-up e spin-off dell'Università di Ferrara, per cui nasce dall'incontro della parte accademica con l'azienda, la parte aziendale. È un'idea innovativa che è nata con lo sviluppo di una metodica nuova per la produzione di cranioplastiche, che sono delle protesi craniche per paziente specifico. Adesso si sta estendendo anche altri generi di protesi, quindi stiamo piano piano espandendo i nostri orizzonti. Eppariamo adesso di musica perché arriva un nuovo appuntamento per la segna a tutte le direzioni in Winter e Springtime 2024 con il Gruppo dei Dieci. In particolare questo sabato, 9 marzo, sarà una serata tutta dedicata al batterista ferrarese Ella De Bandini. Vediamo. Continuano gli eventi e gli appuntamenti di tutte le direzioni organizzate dal Gruppo dei Dieci. Adesso c'è un appuntamento, si intitola Eliade parte seconda. Di che cosa stiamo parlando? Intanto stiamo parlando di un concerto che sostituisce un altro concerto, lo devo dire, perché era previsto infatti il quartetto con Gianni Cazzola. Poi per questioni di una indisposizione ai Gianni l'abbiamo rinviato al 12 maggio, questo tanto come notizia giornalistica. Poi nel momento che avevamo questo 9 marzo libero non potevamo però stare fermi, ormai ci avevamo fatti la bocca per andare a ascoltare qualcosa. Allora il nostro amico Ella De Bandini ha pensato di presentare un'edizione ampliata e riveduta dell'Eliade. Eliade è un nome bellissimo, che è nato qualche tempo fa. Il sottotitolo è Vita epica di un batterista fra pensieri, suoni e immagini. In effetti è un concerto bellissimo dove Ella De Bandini, che tutti conoscete, per cui non sto qua, perché altrimenti mi dovreste dare tutto il Tg come disponibilità. Insomma, racconta un po' tutta la sua storia musicale, facendo vedere anche tanti spezzoni di video, film, eccetera, dove lui ha partecipato, dove partecipavano anche i grandi interpreti con cui lui ha suonato, a partire da Mina, Paolo Conte, Fabrizio D'Andrea, Guccini e poi, ripeto, se incomincio non faccio fatica a smettere. Per cui Eliade è un momento in cui, suonando dal vivo, lui rappresenterà un po' la storia di questa sua vita musicale, che è poi la storia, direi, di tutti noi, perché i personaggi con cui ha suonato praticamente sono i personaggi che sono stati la colonna sonora della nostra vita e che continuano ad esserlo, fortunatamente. Posso solo aggiungere che ci saranno anche delle sorprese finali, perché sì, che è una sorta di one-man band come concerto, ma può darsi che ci sia qualche sorpresa live. Ricordiamo però l'appuntamento, dove e quando? Beh, l'appuntamento può essere solo allo spirito, una volta di più, e sarà sabato, 9 marzo, come sempre, c'è ne a seguire il concerto. E parliamo adesso di un appuntamento che andrà in onda venerdì sera su Telestense, nel corso di Sanità Benessere Oggi, in particolare si parlerà di Silvia Testoni, un'esperienza di 25 anni nel settore dell'estetica, con la filosofia della complementarietà del benessere di mente e di corpo. Vi mostriamo un'anteprima di quello che andrà in onda appunto venerdì alle 21.30 su Telestense. Cerchiamo di occuparsi un po' di quello che riguarda il nostro corpo, quindi quali sono le cose giuste da fare in questo periodo? Ok, Daniela. Allora, in questo periodo diciamo che usciamo dal periodo invernale e quindi dobbiamo occuparci un po' di tutto quello che è il nostro corpo e anche il viso. Per quanto riguarda ad esempio il viso, io consiglio assolutamente, visto che veniamo dall'inverno insomma, di cercare di tirare via quelle che sono le cellule morte superficiali. Quindi per occuparci del viso in primavera consiglio sempre una pulizia del viso o eventualmente un trattamento con gli acidi. cercate di farvi consigliare il prodotto giusto per il vostro tipo di pelle. Non è facile tante volte interpretare o riuscire a capire qual è il tipo di pelle che abbiamo, Daniela, perché molto spesso uno dice ma sì, ho la pelle grassa semplicemente perché magari vede un pochettino di untuosità superficiale oppure diciamo una pelle secca o una pelle mista. Tante volte il check up è fondamentale, fatto proprio da un'esperta diciamo di pelle, proprio per cercare di capire qual è il tuo tipo di pelle e qual è la crema giusta da abbinare al tuo tipo di pelle. Perché molto spesso ad esempio la pelle secca si presenta magari in casi di pelle sensibile. Altro punto importantissimo, ovviamente ripeto, siamo in primavera, quindi dopo c'è l'estate, quindi chi ha orecchie per intendere intenda, è il corpo. Quindi quali sono appunto i trattamenti che possiamo fare per rimodellare, tonificare, che cosa possiamo fare per il nostro corpo? Allora, come hai anticipato tu, chiaramente in primavera pensiamo tutti al fatto che vogliamo arrivare all'estate in ottima forma, insomma vogliamo rimodellare il nostro corpo, sicuramente vogliamo tonificare se c'è bisogno di tonificare, piuttosto che rimodellare nel momento in cui vogliamo rimodellare il nostro corpo. Le cose che si possono fare sono tante, dal punto di vista cosmetico e anche con i massaggi o con le apparecchiature si possono ottenere dei bellissimi risultati. Una cosa che però io consiglio vivamente è un tipo di attività di cui avevo parlato poi in un altro programma sempre qua con voi, che sarebbe la ginnastica estetica. La ginnastica estetica è un trattamento un po' particolare perché coniuga sia il trattamento estetico che una vera e propria ginnastica. Prima di chiudere una comunicazione di servizio al via la campagna informativa del Comune di Ferrara in merito all'attacco hacker del 12 luglio scorso. Durante le procedure di ripristino dei dati, gli esperti hanno rilevato che alcune informazioni anagrafiche e amministrative relative ai cittadini, ai dipendenti e a coloro che sono venuti in contatto con l'amministrazione sono state pubblicate dagli hacker sul dark web. Il Comune ha notificato la violazione all'autorità garante per la protezione dei dati e sta provvedendo ad informare tutte le persone interessate. Il Comune di Ferrara invita tutti gli utenti a prestare attenzione a eventuali richieste di contatto telefonico o mail inconsuete e in questo caso a sporgere denuncia alle autorità competenti. L'ente ha attivato la campagna informativa su diversi canali. Si può inoltre contattare l'ufficio della responsabile protezione dei dati all'indirizzo dpo-team-lepida.it. Tutti gli aggiornamenti del caso sono consultabili anche sul sito internet istituzionale comune.fe.it nell'apposita sezione attacco informatico raggiungibile in alto a destra della pagina. E questa era la nostra ultima notizia, vi ricordo telestension.it e i nostri canali social per questi ulteriori aggiornamenti, grazie dunque per averci seguito, come sempre l'appuntamento rinnovato alla prossima edizione. Grazie a tutti.